Lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato. Gli allievi sono in corsa verso l'ambito serale. La casetta, in settimana, ha salutato Ezio. Oltre a Giovanni, voluto da Raimondo Todaro, nel nuovo pomeridiano entrerà un altro concorrente. Anna Pettinelli ha scelto un nuovo allievo, si tratta di Ail, che ha conquistato il sianche di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La gara di canto avrebbe visto prima Lil Jon Lee, seconda Mew, terzo Holden nella classifica. Ultimo Samuspina. Nel corso della gara Stella avrebbe avuto un momento di sconforto e sarebbe scappata in bagno, durante la registrazione. La gara di ballo avrebbe visto invece Marisol sul podio, Dustin secondo e Kumo terzo. Ultimo Simone. Sofia, invece, avrebbe vinto la prova coreografie che raccontano la propria vita. I compiti assegnati dai professori sarebbero stati superati con alti voti da Holden e Mew. Oli Francisco avrebbe vinto la sfida cantando il suo inedito, resta dunque nella scuola. Le anticipazioni rivelano che Alessandra Celentano e Elena Damario avrebbero discusso animatamente dopo l'esibizione di Nicholas. Le anticipazioni rivelano che tra gli ospiti del pomeridiano in onda il 5 novembre su Canale 5 ci saranno tre ex allievi. Si tratterebbe di Alex Wiles, Enrico Nigiotti e Diana del Bufalo. Quest'ultima avrebbe promosso lo spettacolo teatrale che la vede protagonista. Gli ospiti che hanno giudicato le esibizioni degli allievi è deciso, dunque, la classifica, Gabri Ponte per il canto e Ambetta per il ballo.